Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Parliamo di Alessandro Costacurta, di Billy Costacurta, che ieri prima del match contro il Parma ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Si è sbilanciato il nostro ex difensore, ora opinionista, a Sky Sport, dicendo, queste sono state le sue parole, non riesco a entrare nella testa di Donnarumma perché sono diverso. Noi, riferendosi al gruppo storico dei senatori del Milan, abbiamo deciso all'epoca di rimanere al Milan senza troppi fronzoli. Non facevamo uscire niente e abbiamo guadagnato meno di quello che avremmo potuto chiedere probabilmente. Non credo che Paolo possa alzare l'offerta visto il budget. Non mi piace il comportamento di Raio e la di Donnarumma che stanno tirando per le lunghe questa situazione. Poi, devo dire che sono infastidito dal bacio della maglia. Baciano la maglia e poi sono lì a contrattare. Baci la maglia perché? Ha chiesto Billy. Forse sono di tradizione antica, servirebbero meno baci e più dimostrazioni concrete. Ecco, queste sono le dichiarazioni di Billy Costa Curta che le lasciate ieri a Sky Sport e volevamo commentarle appunto con voi. Un breve commento e l'abbiamo già detto tante volte. Io rispetto Donnarumma, non lo insulto, però lo rispetto e lo rispetterei ancora di più se avesse il coraggio di dichiararsi ufficialmente alla stampa dicendo quella che è davvero la sua volontà e di non, in qualche modo, nascondersi dietro a un procuratore. Tutti dicono, eh, Raiola è cattivo, Raiola è un mercenario, Raiola... Tutti questi, diciamo, pseudo-insulti. In realtà la volontà del calciatore è la volontà determinante. Ci sono tanti casi di giocatori che hanno abbandonato Raiola come Insigne, come Amsic e che in qualche modo hanno preferito restare nel club di appartenenza. È chiaro che un giocatore come Gigio, dal suo grande talento, debba essere riconosciuto anche a livello economico come uno dei giocatori più forti, più rappresentativi del club. E appunto il Milan aveva fatto e ha fatto questo passo importante aumentando di 2 milioni l'offerta, 2 milioni netti che sono circa 3, 7, 3, 8 lordi. Quindi un'offerta davvero, davvero importante. Quindi vorrei che Gigio, in qualche modo, dimostrasse davvero la sua volontà e dichiarasse davvero quella che, in qualche modo, sarà la sua decisione finale di non tenere il Milan in nostaggio di decisioni strategiche a livello tecnico, a livello tattico per la prossima stagione sportiva. Solamente così avrebbe e guadagnerebbe tutto il rispetto dei tifosi, anche qualora, almeno questo è il mio pensiero, decidessi di lasciare il Milan anche a parametro zero, però non nascondersi dietro a mancate dichiarazioni facendo il gioco di un procuratore che, in qualche modo, quando lo scegli sai benissimo come tifoso che questi giocatori qui hanno un orientamento diverso, non un orientamento di sposare la maglia per sempre, ma di cambiare squadra per guadagnare sempre di più. Quindi la volontà di Gigio, ormai, è in qualche modo indirettamente manifestata dal momento che ha scelto Raiola. Però, almeno avere il coraggio di manifestare la sua decisione sarebbe un gesto di rispetto nei confronti del Milan che lo ha fatto crescere, che lo ha valorizzato e che lo ha valorizzato non solo a livello tecnico, rendendolo uno dei portieri più importanti d'Europa, ma l'ha valorizzato anche in questi ultimi 4 anni, garantendogli 24 migliorinetti all'anno totali, che sono davvero una cifra pazzesca per un ragazzo che ha soli 21 anni, che andrà a compiere nei 22 quest'anno e veramente io mi aspetto riconoscenza e rispetto per i tifosi e per la maglia che indossa, visto che nelle ultime giornate è stato anche il capitano del Milan, un capitano che, in qualche modo, ha ereditato fasce importanti che sono state appunto sul braccio di Billi, sul braccio di Baresi, sul braccio di Maldini. Quindi serve davvero rispetto e serve che abbia il coraggio e la personalità di dire cosa vuole fare da grande. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.